Non ha festeggiato, ha detto sono addolorato della vicenda e non... E' addolorato, però risparmia un sacco di soldi per arrivare a una sintesi così. Però io voglio spezzare una lancia a favore di Berlusco. Non mi sembrava... Ma che sto gli dobbiamo dare? Un milione e quattrocento euro... Mila, mila, no quattrocento. E quattrocento mila euro, sì, non ci arrivo mai a quelli... Esatto. Ma poveraccio, quello deve già pagare 30, 40 oggettine. Ma via, c'era il trucco della lancia a spessare. Dateci 10 euro al giorno e faremo il 60% alle elezioni. Vi fermate un istante solo perché...